Una Fiorentina monumentale, passa il turno di Europa League con una bellissima partita della sfida di torno contro il Tottenham. I Viola giocano una partita perfetta, coprono quando devono coprire, sono micidiali in contropiede, vanno a segno con Mario Gomez e Salah due grandissimi protagonisti. Ma davvero un bravo va a tutta la squadra e uno in particolare al portiere Viola Neto che giocava una partita difficile e ha salvato il risultato in almeno due occasioni. Veramente una grande Fiorentina, Tottenham ha annichilito il sogno europeo per i Viola, continuo.